Andiamo a comando! Sì, abbiamo fatto una grande gara, ci voleva, ci volevano una reazione, l'abbiamo avuta. Dopo il 3-0 di Barletta siamo riusciti a vincere contro una signora squadra. Questo è molto importante, è un risultato che da morale ci serve e noi proseguiamo per la nostra strada. Audace che torna secondo solitario in classifica, una grande prestazione collettiva. La tua particolarmente, sei stato uno dei migliori in campo in assoluto, tanta qualità, tanta corsa, anche molti palloni recuperati. Ti senti un po' il leader di questa squadra, anche se comunque soprattutto oggi avete giocato con il cuore, molto uniti, molto compatti. Mi sento una parte importante della squadra, ci sono parecchi leader nella squadra e l'abbiamo visto oggi. Dove ci voleva una grande reazione l'abbiamo data. Una squadra, la nostra, molto forte, molto equilibrata e quindi noi credo che riusciamo a dire la nostra in questo campionato. Domenica trasferta difficile a Galatina che al momento non è ancora finale ma ha bloccato in casa sempre il Barletta. Sempre difficile giocare sui campi salentini ma a questo punto non ci si può fermare. Si vuole dare un segnale preciso al campionato? L'audace c'è. Certo, sono tutte difficili, soprattutto giocare fuori casa non è mai facile. Però noi siamo una grande squadra, ho già detto. Oggi l'abbiamo dimostrato e quindi credo che sacrificandoci tutti, dando tutti il massimo, potremo dare fastidio a tutte le squadre. Sei arrivato al quarto gol in campionato, come dicevo prima tanta qualità, tanta quantità anche, ma anche un grande senso del gol. Vito Morra è entrato in tutte e tre le occasioni, ha segnato una doppietta e ti ha servito l'assist in una grande azione. Conta molto anche la tua soddisfazione personale per sbloccare anche partite difficili? Certo, sono contentissimo per questa quarta rete. Devo ringraziare il mio compagno di squadra, Vito, che mi ha dato l'assist. E questo ci fa vedere che siamo una grossa squadra, perché lui sotto porta poteva tirare e invece mi ha fatto segnare. E questo significa che c'è gruppo, siamo uniti. E questa è una cosa molto importante, soprattutto in questa categoria. Grazie Carmine e complimenti. Grazie. Mister Francesco Farina, mister, innanzitutto complimenti. Penso che quest'oggi migliore esordio non potesse esserci. Sì, abbiamo giocato contro una grande squadra, con 4-5 giocatori in meno noi, quindi è stata una partita importante da parte dei ragazzi. Abbiamo sofferto il giusto, anche perché secondo me loro hanno un grandissimo potenziale offensivo, nonostante l'assenza del Visco, però ha giocato Negro, che comunque secondo me è un buon giocatore. I ragazzi hanno tenuto a botta, c'era gente tipo Matera che non giocava da tanto, tipo Russo, però i ragazzi hanno fatto una grande partita, secondo me è dimostrazione che il calcio si gioca in 20, nel senso che il gruppo è di 20 giocatori, tutti quanti disponibili e utili per la causa. Una grande prova di carattere, una dimostrazione di forza, nonostante parecchi assenti. Il Casarano è stato piegato e fino a poco prima dell'inizio della gara era imbattuto. Lei diceva in conferenza stampa che voleva una squadra corta, aggressiva e lo si è visto. Forse è troppo presto per dire se c'è concretamente la sua mano sulla squadra, ma le prime direttive si sono viste quest'oggi. No, diciamo che in settimana abbiamo fatto un lavoro di scelta sul possesso palla, per esempio nel secondo tempo abbiamo fatto tanto possesso palla. In avanti per esempio eravamo non tanto messi bene, anche perché ho fatto giocare a questo ragazzino Oliva che ha fatto bene, però alla fine non ha la consistenza di un lato canna, per esempio. Però il ragazzo si è mostrato bene, ha fatto un grosso assist sul terzo gol e sono contento. A me interessava la fase difensiva fatta in un certo modo, i ragazzi l'hanno fatta. Ci sono state le sbavature, due o tre palle perse al centro campo, però perché la vogliamo giocare sempre. E poi alla fine, sai, alla fine del primo tempo ho parlato un po' con i ragazzi e alcuni erano in grossa difficoltà. Quindi ci siamo dovuti un po' abbassare, pure perché avevamo tanta gente in difficoltà fisica. Adesso con il lavoro dovremmo fare, dobbiamo recuperare tutti quanti. Però non ci dobbiamo illudere con questa vittoria, dobbiamo cercare di crescere. Domenico abbiamo un avversario che secondo me è uno dei più difficili di questa categoria. Oggi, se non sbaglio, il Barletta pareggiato a Galatina. Queste per me sono le partite più difficili. Le partite di scuola diretti si preparano facilmente. Adesso, dopo questo 3-0, il Casanano imbattuto. Far capire alla squadra che domenica è la partita più importante dell'anno sarà un po' più complicata. Lei non ama parlare di singoli, però quest'oggi, a parte da sottolineare la grande prova collettiva di tutta la squadra, però a mio parere oggi Morra e Carmine Marinaro sono stati quelli più appariscenti. Morra ha davvero spaccato la partita, è entrato in tutte e tre le azioni dei gol, ha segnato una doppietta importantissima. Di Pasquale può aspettare o comunque può recuperare con tranquillità dall'infortunio. No, Morra è un giocatore importante per la categoria. Non mi piace parlare di singoli, anche Carmine Marinaro è un giocatore di qualità, importante. Però io vorrei sottolineare le prestazioni di tre giocatori che giocavano poco, come Oliva, come Matera e come Russo. Questi sono giocatori che contro il Casanano sono scesi in campo, non giocavano un sacco di tempo. Morra è abituato a giocare, Carmine Marinaro è abituato a giocare. Ma questi qua non erano tanto abituati, hanno mantenuto botta. Anche Michele, c'è l'esordio di Antares, secondo me è un esordio importantissimo. Morra ha fatto il suo, questo deve fare ogni domenica. Se no lo paghiamo. Grazie Ministro e complimenti. Prego, ciao.